Attingendo a fondi regionali a cui sono stati aggiunti 14.600 euro quale contributo di cofinanziamento, per un totale complessivo di 146.000 euro, l'amministrazione comunale di Teramo dà il via libera al progetto Sicuramente in città, che prevede l'installazione di un sistema integrato di videosorveglianza del territorio comunale in collaborazione con la Questura. Questo è l'obiettivo, dare maggiore sicurezza ai cittadini, rendere la città di Teramo più sicura, avere zone strategiche del nostro territorio sotto controllo, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, sul viare Carino Gambacorta, dove uno dei bus è stato buttato a terra da incivili che purtroppo sono sempre presenti. Fa parte di un progetto più ampio che è Milleocchi sulla città, un progetto nazionale sulla sicurezza, 26 telecamere che si vanno ad aggiungere a quelle già presenti, avremo in tutto circa 40 telecamere, in vari posti della città, a partire da San Nicolò, dalla stazione, il centro storico, le rotonde quelle principali, il viale Carino Gambacorta, il monumento a Caduti, insomma un po' tutto il territorio. È chiaro che c'è bisogno ancora di altri interventi, ma aderiremo a nuovi progetti, intanto queste prime 160 mila euro di un finanziamento di qualche anno fa della regione Abruzzo avrà seguito, quindi è stato provato il progetto, ci sarà la gara e speriamo nei primi mesi del nuovo anno di avere posizionate queste telecamere. Sappiamo anche, per questo già è così oggi, che poi questo sistema è in diretto contatto con le forze dell'ordine, per cui il controllo è a più ampio respiro.